Facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni.